E stiamo con il presidente dell'Avis Comunale Città di Agropoli, Rosario Capozzolo, per tracciare un bilancio di quest'anno 2021. Ricordiamo le tante attività che sono state svolte durante questo lungo anno 2021. Vogliamo dire che è stato un anno abbastanza difficile, però diciamo che l'abbiamo chiuso in bellezza. Le donazioni sono state, sono aumentate per fortuna, abbiamo superato le 3.000 sacche e abbiamo superato di circa 300 sacche del 2020. Abbiamo circa 200 nuovi iscritti, questo ci fa ben sperare perché in media ce ne sono altre tante a fine anno che non possono più donare chi per un motivo e chi per un altro. Per cui diciamo che abbiamo avuto anche un bel ricambio. Che dire più, io voglio ringraziare tutte queste persone che nonostante la pandemia che stiamo vivendo e in questo periodo si sta ancora accentuando, io non ho avuto tanta paura nel periodo brutto quando ne sto avendo adesso. Siamo alla fine dell'anno e godiamoci il risultato di questo anno con l'augurio che l'anno prossimo sia un po' meno stressante e meno preoccupante. Io ringrazio sempre, non mi stango mai di ringraziare, a nome poi di tutti quelli che beneficiano di questo dono, che sono i malati e noi stiamo qui per loro. Io sono qui da stamattina, abbiamo fatto l'ultima raccolta dell'anno stamattina e sono rimasto qui tutto il giorno per cercare di fare un po' il quadro della situazione. Il nuovo anno lo abbiamo già programmato con la speranza di realizzarlo tutto e mi auguro che ci riusciamo. Intanto voglio ringraziare tutti i donatori, grazie a loro se questo è possibile. Abbiamo proceduto quest'anno anche a fare le prime azioni, cose che non abbiamo fatto l'anno scorso, presi dalla paura. Invece quest'anno siamo partiti che pensavamo che stavamo tranquilli, invece poi alla fine ci siamo ritrovati un'altra volta coinvolti in questa situazione di emergenza. Il nuovo anno come si procederà per quanto riguarda le raccolte? Partirà sempre dal lunedì e la domenica? Sì, ho lasciato gli stessi giorni perché è andato abbastanza bene quest'anno. Qui ho lasciato sempre il lunedì e il giovedì, in prasettimanale, poi la prima e la terza domenica, sempre qui in sede e le altre domeniche siamo in giro. Molte volte ci capita di uscire anche quando siamo in sede con tutte e due le automoteche. Io, contando i sacrifici, abbiamo due automoteche che adesso, in quest'anno, c'è stato quasi difficile, se non impossibile, qualche domenica fa, uscire con tutte e due. Però abbiamo questa possibilità e dobbiamo cercare di farla perché noi raccogliamo sangue, raccogliamo quel medicinale che io dico che purtroppo serve, indispensabile per la salute di tutti noi. Nessuno, io auguro che nessuno ne dovrebbe avere bisogno, però purtroppo tutti i giorni tutto quello che raccogliamo, e non solo io, non è mai sufficiente. Io voglio augurare tutti i donatori, i familiari, la cittadinanza tutta, l'amministrazione, tutti quelli che mi danno una mano, chi per un modo e chi per un altro, perché noi abbiamo bisogno un po' di tutti. Voglio ringraziare Cento Channel, in primis, perché mi dà una grossa mano e per questo ne sono sempre grato. Chiudo augurando a tutti quanti un 2022 con la speranza che ritorniamo a una vita normale. Tutti gli anni, io leggo, tutti gli anni ci auguriamo tutte queste, però per il secondo anno consecutivo purtroppo non è andata così. auguro a tutti, a noi stessi, che il 2022 e alla fine possiamo fare un altro tipo di discorso. Buon anno a tutti, buone feste, festeggiate, mangiate, non esagerate, ci troviamo il 2 gennaio, sempre qui in sede.